Raghi, oggi riproviamo su DOP 2 ad arrivare al livello 100 Ok, quale dettaglio manca? L'ombra, manca... Ehm... Come faccio a disegnare la... Ah, eccola qui! Manca l'ombra, che carino! Raghi, io sono impedita, non riuscirei mai a fare una cosa del genere Realizza una cover carina Ehm... Ah, toh, va! Devo solo cambiarla Devo solo togliere la cover Aiuta a riabbaciarsi Ehm... Ma questo è tipo Lily e il vagabondo Con un solo spaghetto Muaah! Ah, che carino Salva la nonna Come faccio? Come faccio a sapere la nonna? Chi è? È il nonno! Ma che cattivo! Gli ha fatto bellissimo schia... Oh, mio Dio! Abbiamo un orso incinto Bambina incinta E la mamma con due... Vero, lo dico Chi ha rubato l'anguria? Ehm... Qua mi sembra che ci sia... Oh, mio Dio, ci sono dei soldi qui Lei? Oh, mio Dio, è un palloncino? Ha rubato due anguria! Mica una! Raghi, non ci credo Aiuta ad ascoltare la musica Eh, il cavo è rotto! Wireless? Raghi, ho preso l'indizio Che scema! In effetti erano davvero le cuffie wireless Solo che io eliminavo anche le cuffie Invece doveva rimanere l'airpod Prova un alieno? Oh, mio Dio, non ci credo! Raghi, cosa vuol dire? Che in tutti i gatti ci sono dentro degli alieni? Oh, mio Dio! Cosa nasconde il gatto? Un alieno? Oddio, un pesce stavolta! Che carino! È un gatto veggente Fai i capelli come nella foto Beh, basta togliergli... Sì, bastava togliere i cosi Raghi, trova la pera Il libro è praticamente... Sembra la continuazione della sua faccia Ma scommetto che qui sotto c'è Pensavo ci fosse una pera Ma è un signorino! E dov'è la pera? È qui! Ma dai! Ma cos'hai? Ma non... Vabbè A questo signore invece serve aiuto con la macchina Guarda, ti tolgo la pietra? No? Ah, te ne do una nuova! Tieni! Abbiamo rubato la macchina dall'altra casa Va bene Elimina la tristezza Togliamo le lacrime? No Ripariamo il giocattolo No Togliamo il sangue? No Che devo fare? Devo togliere tutto? Che devo fare? Lo vedete lì sopra quello che lampeggia? Ecco Devo eliminare la tristezza Raghi, c'è ma vi rendete conto? Non ci sarei mai arrivata! Quanti biglietti ti servono? Allora, secondo me tre Qui ce n'è uno Qui ce n'è un altro E qui ce n'è ancora un altro Quindi sono per forza tre biglietti Cosa nasconde? Cosa hai eliminato? Volevo eliminare quello Oddio Ha delle manette E una signorina E tante signorine Oddio Coprilo Come lo copro? Abbiamo una coperta Ecco Lo sapevo Abbiamo una coperta Sali sulla montagna Se taglio la montagna Sei già arrivato Giusto? Ecco Ma che sveglia Che sveglia Fai canestro Togliamo il peso Sì Fai una radiografia Vediamo Cosa ti si fa già Alle farfalle nello stomaco? Innamorato Annaffia i fiori Beh i tatuaggi Ma non Quei fiori Ma signora Nonna Spaventa la volpe Come facciamo? Ah c'è un cane qui dentro Beh certo Ok Elimina l'intruso È questo È quella ragione Che non ci faceva niente Mi ricordavo però la piramide Trova il mostro Qui Questo è un occhio No Ah ecco Era la bocca Che carino Voglio farmi un toast così Trova lo struzzo Secondo me La testa è uscita da qua Avevo ragione Dai Chi si nasconde sotto il letto È un mostro orribile O un gattina Ahia Era un mostro orribile Chi è il vampiro? Allora lui sembra un vampiro Ma non lo è Lei È Batman Lei No È lei Oddio Modernizza Wireless Togliamo il cavo Modernizza Che cosa devo modernizzare? Ah raghi Era una scema Ci ho pensato dopo Questo è un robottino Io invece io però Convinta che fosse Un aspiravolvere senza fili Dov'è l'alieno? Sei tu Sei tu l'alieno Lo sapevo Aiuta il delfino Ma tu sei malato Facciamo che toglievo le fiamme Che dite? Ecco Molto meglio Cosa nasconde? Mmm Qua niente Nella barba Degli uccellini Giumellini Mi fa ricrescere la barba Solo per avere un nido di uccellini Raghi Aiuta la tartaruga a vincere Tolgo il traguardo? No Tolgo il traguardo a lui? Sì Ok raghi Trova il pirata No È lui il pirata Oh poverino Facciamo così Eccolo Ecco il pirata Trova il bersaglio per l'uccello La sua testa Sì Cagagli Nella testa E elimina l'intruso E se io elimino la coda? Sì È la coda l'intruso È un corgi Distruggi l'ufo Lo tolgo? No Come faccio? Tolgo una di queste? Una Due No Eeeh Tolgo questo? Come faccio a distruggere l'ufo? Raghi Ogni volta non lo so Tolgo la cosa Tolgo questa Come lo distruggo? In teoria se io tolgo i pesi Vado sopra e lo distruggo Oh finalmente Ok ora funziona Aiuta la tartaruga a vincere di nuovo Ah creiamo un cratere Proprio ammazziamo la lepre Aiuta il detective Sembra che c'è la faccia di una donna qui dietro Salve detective Prova l'avvoltoio Ma è già lui un avvoltoio no? Ah no Gli avevo tolto i capelli Togglieli però i capelli Eccola Poverino Cosa nasconde? Vediamo un piatto di noodles Bello bello Secondo me è questo che fanno i Jedi Trova la bottiglia d'acqua Qua sotto No è una lampada Ah va bene anche la lampada Ti dà la bottiglia il genio Comunque siamo riusciti ad arrivare a livello 104 Cosa sta sognando? Cibo Ah no Ragazzone con i muscoli Che sembra un croissant in realtà Libera i palloncini Ah gli abbiamo staccato il braccio Salva la ragazza Come faccio? Così? No Che faccio? Come la salvo? Così cade? E se io tolgo tutto Tranne che la corda Ecco Oh ora sta facendo bungee jumping Siamo per arrivare al 110 Trova l'anatra È qui? È qui l'anatrocola Nell'altro era un uccellino Esci dalla friendzone No Togliamo il cerchio Esci dalla friendzone Che bellini 9 Elimina l'intruso Così? Oh ecco Giusto In effetti non sono così tanti al bullying È l'ultimo 12 meno 8 4 Quindi Così Barazzati della puzza Direi di togliere questi piedi marci schifosi Oddio In realtà era solo la calza Ok chi vive nell'igloo Scopriamolo Oh è un eschimese È lui Togli questi igloo No sta congelando Ma come? Non congelo dentro ma congelo fuori Chi non supera i controlli Secondo me questo tizio non nasconde niente Infatti ha delle caramelle Ma la signora Se nasconde Ho una pistola nella parrucca Che anguria sceglierà? Guarda Oh mio dio Non ci credo Quella lì Beh Ma lui che pure C'ha pure la bava alla bocca Che zotto Trova il tesoro Tolgo questo? No Così Oh ecco Così l'ho trovato Salva cappuccetto rosso Cappuccetto dimmi che c'hai una pistola lì dentro No Come ti salvo? Qui che cosa c'è? È la nonna È la nonna vera Non ci credo Sbarazzati delle prove La telecamera Oh oh È nei guai la tizia Non voleva aiutare il delinquente Cosa c'è che non va qui? È il Grinch Fai uno scherzo al cliente Ma è un dinosauro? Ma è una lucertola? Questo è lo scherzo al cliente È È una sedia sederone Ok ragazzi Ma 120 Scalda l'orso Col sole Mi sono arresa Dovevo mettere i pantaloncini Al topolino E ovviamente Come Winnie the Pooh Il maglioncino Allora Sapete cosa? Una bonus Togli il trucco Non ci credo È questo Ha tutto Perfetto Togliamo tutto Il trucco Il trucco Questa raghi È praticamente Una ciambella nuda